ciao ragazzi oggi giocheremo con migliaia di pezzi delle regine magiche dei pinnipon andiamo iniziamo cariche guardate che capelli da regina che treccia questa maglia con il cuore e questa gonna magica la c di charlie uno scettro magico e ovviamente la corona da regina tutto verde ma guardate posso cambiare la gonna magica in molti modi su cambiamo tutto wow guardate questi capelli con un'altra corona è stupenda un gioiello tra i capelli e ora devo cambiarle il corpo ovviamente questa gonna le sta molto bene vediamo un po questo com'è bella meglio questo scettro e qualcosa tra i capelli voilà ecco dei bei capelli ecco una bella gonna ed ecco una bella corona sta leggendo un incantesimo è un fiore che le sta molto bene scegliamo il motivo della gonna pronta adesso altri capelli trecce con una corona piccolina molto carina e una corona un po più grande un mantello lungo come elegante bisognerà cambiare l'outfit e un'altra faccia con un make up da regina e altri capelli rosa una corona speciale una pozione magica e ora una gonna che si illumina più magica di così impossibile ora questa gonna stupenda con questo motivo cambiamole la faccia questi capelli abbinati questo mantello questo scettro sta benissimo con la corona il dettaglio finale questa faccia mi piace molto capelli moderni che ridere charlie regina magica viene il drago che carino ecco vado via col drago grazie draghettino ci vediamo al prossimo video pinipon gitaipon pinipon pinipon gitaipon pinipon